Iniziamo oggi il nostro consueto viaggio fra le 14.000 tavole dell'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale raccontando le incisioni di giochi di strategia conservate presso il gabinetto delle stampe. Se giovedì scorso abbiamo incontrato l'attesa del giocatore che vive l'ebrezza dell'azzardo aspettando la decisione della sorte, oggi entriamo in un nuovo campo di gioco nel quale vengono invece richieste destrezza e abilità tattiche. L'adozione di tavole, variamente configurate a fini ludici, ha radici antiche. Risale alla Mesopotamia, il gioco reale di Ur, antenato del backgammon. Antica, ma molto più vicina ai nostri giorni è la tavola lusoria romana, una tavola da gioco conservata in tanti esemplari incisi abusivamente su soglie e gradini di molti spazi pubblici, come quella conservata sul bordo di una grande piscina a Roma alle Terme di Caracalla. Stiamo parlando di veri campi di gioco, tra i cui confini disegnati si entra osservando regole e istruzioni specifiche. I più noti tra i giochi di strategia sono certamente la dama e gli scacchi. Nato nel VI secolo in India, il gioco degli scacchi attraverso la mediazione della cultura persiana si diffonde presso gli arabi per giungere, infine, nell'Europa medievale intorno al X secolo d.C. Il Museo Archeologico di Venafro, in Molise, conserva i pezzi più antichi d'Europa. Presso il gabinetto delle stampe, oltre ad alcune scacchiere, sono conservate tra i capitoli dei giochi di fine Settecento le regole della dama e degli scacchi. Le spiegazioni fornite sono molto dettagliate e utilizzano il lessico della strategia, dallo scacco soffocato alla pedina soffiata. Sono oltre 150 le federazioni nazionali esistenti che si sfidano in tornei, campionati nazionali, internazionali, mondiali, olimpiadi. La terminologia e gli schemi del gioco, molto utilizzati nel linguaggio metaforico e simbolico quotidiano, così come nel cinema e nella letteratura, ispirano la nota performance di Marostica in provincia di Vicenza. Sul rovescio dello scacchiere è generalmente collocato il gioco del filetto, detto anche tavola-mulino. Si gioca in due, con nove pedine ciascuno, su un disegno di tre quadrati concentrici. Chi riesce a disporre tre pedine sulla stessa fila fa tris, vince e chi riduce l'avversario con due sole pedine. La versione semplificata e moderna del gioco è anche detta tris. Ancora oggi diffusissimo che, sebbene richieda solo una matita e una superficie su cui scrivere, è commercializzato su svariati tipi di supporto e anche in molte versioni digitali. Nel gabinetto delle stampe sono conservati anche alcuni giochi di strategia militare, che vanno dalla seconda metà dell'Ottocento ai primi decenni del ventesimo secolo. Si tratta di tavole che, attraverso immagini, rievocano alcuni dei principali avvenimenti militari della storia. In periodi di guerra, giochi di strategia militare ebbero una larga promozione sul piano commerciale. La battaglia del 48 è, ad esempio, una litografia di primo novecento dell'editore Bertarelli di Milano, che rimanda nel titolo all'avvenimento storico della prima guerra di indipendenza. Lo scopo del gioco è l'attacco a un vecchio castello, posizionato al numero 48 e difeso da due villaggi separati fra loro da una stretta gola. Veri e propri giochi di strategia militare sono le varie tavole dedicate all'assalto al castello, in cui lo scopo finale è quello di occupare la fortezza, che corrisponde al riquadro superiore numerato, proprio come nella dama sono presenti delle pedine, che si muovono lungo il percorso e possono essere mangiate. I giochi di strategia militare si sono trasformati nel tempo in versioni diverse e più attuali, che partono dalla battaglia navale, disegnata sul foglio a quadretti, per arrivare, attraverso il risico, agli attuali giochi di strategia e simulazione di guerra. che consentono di combattere battaglie virtuali contro altri giocatori collegati online da ogni parte del mondo. Vi invitiamo oggi a stampare e a mettere alla prova la vostra abilità tattica con il gioco ottocentesco del lupo e delle pecore, molto simile nello schema ai giochi d'assalto alla fortezza. Chi vincerà? L'unità di gregge o la forza del predatore? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.